Casa di riposo Eden dell'Anziano in località Ripatiatina. Questa mattina un convegno di indubbia rilevanza. Il titolo, il treno dei ricordi, il tema, l'Alzheimer, una malattia che può essere assimilata ad un viaggio. Inizia con i familiari e gli affetti, poi il malato va avanti per conto suo. L'Alzheimer trasforma l'identità del paziente affetto. L'unica cosa che resterà anche negli stadi più avanzati, la capacità di emozionarsi. Professor Zito, qual è la modalità con cui vengono seguiti i malati di Alzheimer? Questa malattia è in grado di sconvolgere non solo la vita del paziente, ma anche della famiglia. Per cui sarebbe importante che famiglia e paziente siano in qualche modo aiutati e seguiti a capire quali sono i problemi più importanti e come possono essere gestiti. Perché una vera e propria cura non esiste. Invece si può fare molto nel campo dell'assistenza. La nostra è una regione dove non ha ancora affrontato questo problema. Capire quali sono le strategie assistenziali migliori, siamo ancora a un livello molto lontano. Mauro Petrucci, il Covid ha distratto, se vogliamo. I malati di Alzheimer sono stati, per così dire, trascurati? Trascurati no, diciamo che hanno dovuto subire un ulteriore isolamento che oltre a quello che è determinato dalla malattia che un po' isola questi pazienti dal punto di vista relazionale, con il Covid diciamo che hanno sofferto ancora un po'. Però devo dire che in questa struttura siamo stati abbastanza fortunati o bravi perché io ho iniziato a collaborare con loro nella prima ondata del Covid perché come responsabile sanitario del Centro Operativo Comunale di Ripa, avendo riscontrato qui un focolaio di una trentina di positivi che ci ha fatto entrare in zona rossa, siamo dovuti intervenire come COC. Li abbiamo seguiti, devo dire che i risultati sono stati eccellenti perché non abbiamo avuto nessun decesso e nessun ricovero. Quest'anno con l'ondata che abbiamo avuto, con le vaccinazioni che abbiamo fatto in sede, con l'assistenza, con tutte le prevenzioni adottate, non abbiamo avuto nessun caso di positività. Quali sono i sintomi dell'Alzheimer? Allora il sintomo più caratteristico è sempre quello della memoria. A tutti noi capita di scordare le cose, ma quando questo disturbo in qualche modo altera anche la capacità della persona di stare in mezzo agli altri, la persona si isola, la persona ha dei dubbi, ripete sempre le stesse cose, si disorienta. Ecco comincia ad essere il momento di capire, di valutare e vedere se c'è questo tipo di problema. Il titolo, il treno dei ricordi, dice tutto. Sì, perché si cerca di risvegliare in queste persone dei ricordi che vengono meno. Si comincia con la perdita della memoria recente a breve termine, con la perdita di quella che è la conoscenza del proprio ambiente abitativo, dei familiari. Si perde un pochettino tutto, quindi si cerca di rallentare questo treno che cerca di sfuggire via e cercando un po' di frenare questa decadenza mentale che chiaramente ti isola e ti crea dei problemi. La direttrice, Vera Falone, che è in compagnia naturalmente di due psicologhe e di un'infermiera, quindi un bello staff nutrito. Ecco, intanto ricordiamo questa casa di riposo, ospita malati di Alzheimer e non solo però. Sì, allora noi ospitiamo sia malati di Alzheimer che demenza senile, anche bipolari. È un lavoro molto impegnativo, anche io devo ringraziare, io le chiamo colleghe, che ci aiutiamo a vicenda tra di noi. Purtroppo l'Alzheimer non tutti la conoscono, però è una malattia abbastanza molto importante, perché prende anche persone giovani e non solo anche persone adulti. e ringrazio anche i medici che ci sostengono, psicologhi, fisioterapisti. Abbiamo un bel team che mi aiutano in questo lavoro. Ecco, in che cosa si sostanzia il lavoro, direi molto delicato, di uno psicologo, in questo caso di una psicologa? Principalmente si basa sulla relazione. È vero che la memoria viene persa quasi totalmente con il decorso della patologia, però è anche vero che c'è una sorta di memoria emotiva che resta nei nostri pazienti e noi cerchiamo in tutti i modi e tutti i giorni di stabilire con loro una relazione il più possibile empatica che ci permetta poi di leggere i loro comportamenti, perché a volte anche il linguaggio viene meno per questa patologia e quindi è un'osservazione empatica che noi facciamo dei nostri pazienti che ci permette poi di decriptare dal loro comportamento i loro bisogni primari e secondari. Però si basa tantissimo sulla relazione emotiva con il paziente e in questo devo dire che la nostra direttrice, tutto lo staff, gli infermieri che ci supportano tutti i giorni è davvero un lavoro d'equip, da soli non ce la facciamo, dobbiamo necessariamente lavorare in gruppo. Lavoro d'equip, quindi anche gli infermieri svolgono un lavoro fondamentale perché sono sempre a contatto con i pazienti. Noi per quanto riguarda lo staff infermeristico, per quello che possiamo, mettiamo a disposizione la nostra preparazione, la nostra disponibilità, la nostra premura nel prenderci cura della persona anziana e di far sì che tutto questo cambiamento che avviene nella loro vita sia in un modo molto piacevole e ci offriamo per accompagnarli in un modo più tranquillo verso questa esperienza purtroppo poco piacevole. Assolutamente. Quanto sono importanti i familiari dei pazienti, degli assistenti? I familiari hanno un ruolo assolutamente principale per noi. Il nostro obiettivo è non solo quello di coinvolgere i nostri nonni ma anche i familiari e i caregiver dei nostri nonni in quanto devono sentirsi accolti e in grado di poter offrire ai loro cari un ambiente sano e un sostegno più che possibilmente positivo, presente, al di là di quelle che sono le disabilità e i problemi che poi i nostri nonni purtroppo ci mostrano. E noi facciamo di tutto per questo. La nostra punta di diamante è proprio quella di creare attraverso il lavoro d'equip un sostegno persona familiare e cerchiamo di farlo al meglio.